Sì grazie eccellenza, credo che sia opportuno fare qualche considerazione su questo emendamento. Prima di entrare nel merito volevo solo ribadire il fatto che siamo all'ultimo atto di questa legge di bilancio e volevo esprimere in primo luogo un ringraziamento alle loro eccellenze per il lavoro che è stato svolto perché credo che in un momento come questo e con le premesse che erano all'inizio della sessione consigliare non erano sicuramente quelle del clima di oggi che ha trovato una condivisione su alcuni temi da parte di tutte le forze politiche, maggioranza e opposizione e che credo che abbia dimostrato anche un certo senso di responsabilità di fronte a quelle che sono le problematiche del Paese e le problematiche che abbiamo di fronte. Anche se ovviamente credo che qualche riflessione vada fatta ma purtroppo la facciamo sempre a posteriore ogni volta che abbiamo la legge di bilancio perché credo che certe considerazioni forse sarebbe opportuno farle prima di arrivare in aula nell'ambito del tema oggetto di discussione e non arrivare ad un vero e proprio mercato all'ultimo momento fra le forze politiche ma questo lo diciamo tutte le volte e non lo diciamo solo ma anche quando ci sono patti invertite perché purtroppo per la mia esperienza che ho avuto ormai sono diversi anni che sono in consiglio e ho avuto in sensi alternati momenti all'opposizione, momenti al governo e credo che questo è sempre purtroppo accaduto e non deve essere una giustificazione però credo che volevo fare questa premessa perché il passo che è stato fatto ieri credo che sia un senso di responsabilità anche trovare delle convergenze su temi come ha ricordato prima anche il collega Mussoni per quanto riguarda il nostro partito molto delicati e molto difficili da affrontare. Detto questo vado un attimo al tema dell'emendamento che è stato presentato perché è stato firmato dalla Demosi Cristiana e dalla Libera anche se il testo in qualche modo era stato anche condiviso con le altre forze di maggioranza con le ultime correzioni che erano state fatte inizialmente poi è venuto fuori il problema alla firma ma questo aveva modo di discutere successivamente e credo che questo emendamento è diventato subito immediatamente un oggetto forse di una possibile speculazione e strumentazione politica su possibili alleanze o altro. Io credo che invece il problema e l'obiettivo era che su un tema come quello dell'accordo dell'associazione che riteniamo molto importante per il nostro paese, per il futuro dei nostri giovani, per il futuro delle nostre imprese, credo che era necessario l'obiettivo di aprire un focus, un confronto su questo tema, derimente per il futuro del nostro paese come dicevo poco fa, anche perché l'accordo di associazione come ho detto più volte è un traguardo importante, la parafattura dell'accordo, la successiva firma e auspico anche poi ratifica nei tempi che saranno indicate, nelle modalità che saranno indicate anche col consenso della popolazione, io credo che come ho detto non è un punto di arrivo ma è un punto di partenza e questo credo che impegni poi nell'attuazione tutte le forze politiche fosse ancora di più di oggi, perché se mentre prima il confronto fra la Commissione europea e il governo e le due delegazioni che andavano le trattative, oggi invece l'attuazione dovrà essere quella più significativa e più importante da portare avanti e credo che in questo ambito su questo tema che come detto prima riguarda il futuro di San Marino, riguarda il futuro dei nostri giovani, delle nostre imprese, non può essere un tema divisivo fra le forze politiche, anzi credo che tutte le forze politiche devono essere impegnate, pur nella diversità delle loro opinioni a comprendere al meglio questa opportunità, noi riteniamo, di questo accordo e dobbiamo cercare una maggior condivisione possibile fra tutte le parti coinvolte dalle organizzazioni sindacali, associazioni datoriali, i cittadini e le forze politiche che hanno questo gravoso compito da svolgere. Ed ecco quindi che questo amendamento che è stato presentato va proprio verso questo scopo principale, cioè di aprire un confronto vuole concludere consigliere? Sì grazie, va proprio verso questa strada per aprire un confronto e un dibattito fra le forze politiche presenti in aula ed è proprio per questo motivo che abbiamo scritto anche qualche giorno fa in un comunicato che sia opportuno avviare questo confronto fra le forze politiche presenti in consiglio per cercare la massima condivisione anche sul emendamento che è stato proposto, consapevoli che ci sono delle regolamenti da rispettare, delle soluzioni da adottare e dei vincoli che devono essere ovviamente presenti e sono presenti nel regolamento vigente ed è per questo eccellenza che mi permetto di chiedere ovviamente se le loro eccellenze lo consentono e le forze politiche lo condividono proprio per fare questo confronto visto che siamo anche ad uno radio prossimo alla sospensione di questa assoluta sessione consigliare di magari avere un po' di tempo, 10 minuti o quello che è con le forze politiche, maggioranza e opposizione per vedere che cosa è possibile mediare e trovare ma nelle finalità e nelle indicazioni e nelle considerazioni che facevo Pocassi nel mio intervento per divenire ad una condivisione possibile e auspicabile dal mio punto di vista su un tema così focale ed erimente per il futuro di San Marino. Grazie.